Eccesso di colesterolo nel sangue e partologie cardiologiche. Oggi ne parliamo in questo evento organizzato da Sanità Nova con il contributo non condizionante di Dai Cisanchio. In Italia ogni anno 224.000 persone muoiono per partologie cardiologiche, 47.000 di queste sono legate a problemi di colesterolo. Le prospettive future sono quelle di cercare di aumentare da parte nostra, trasmettere meglio le nostre informazioni alla popolazione e cercare di abituarli a fidarsi dei trattamenti che vengono somministrati, eventualmente creando anche dei circuiti virtuosi, appositi, per cui il paziente si sente sempre accompagnato e preso in carico dalle nostre strutture. La novità è soprattutto quella di garantire a un paziente che abbia queste patologie un'assistenza che inizi dalla prevenzione e che poi segua nel percorso di salute attraverso interventi che possano garantire cure di prossimità e cure gestite secondo il modello della medicina iniziativa. È una strategia che si inquadra in Regione Puglia con il modello del chronic care model che viene applicato a categorie di pazienti che necessitano di cure, di interventi che possono essere garantiti sul territorio. Dopo 30 anni di uso delle statine, cosa sta cambiando sul panorama farmacologico? Alle statine si sono aggiunte da poco gli inibitori delle PCSK9, sono degli anticorpi monoclonali, ci sono delle sostanze che vanno a interferire con l'RNA messaggero e per ultimo l'acido benpedoico che ha un meccanismo d'azione che serve sempre a ridurre i livelli di colesterolo circolante, però con un meccanismo molto smart perché agisce solo a livello epatico, non agisce a livello muscolare e quindi evita i famosi dolori muscolari che molti pazienti avvertono con le statine.